La stampante Epson Stylus Office B1100 coniuga la flessibilità di stampare grandi volumi a un'ottima qualità. Stampate documenti aziendali di alta qualità a una velocità di 13 pagine al minuto in nero e 5,3 pagine al minuto a colori in modalità professionale. In più, la velocità fino a 30 pagine al minuto in modalità bozza è davvero in grado di ottimizzare i tempi di stampa. Potete anche scegliere di stampare fino al formato A3 Plus su una vasta gamma di supporti. In questo modo non avrete più bisogno di affidarvi a laboratori esterni per la stampa, ad esempio, di progetti o disegni CAD. Gli inchiostri a pigmenti Epson Durabright Ultra vi consentono di stampare documenti professionali con colori vivaci e testi di qualità laser. L'inchiostro si asciuga immediatamente e resiste all'acqua, allo scolorimento e persino alle sbavature causate dagli evidenziatori. Le cartucce di inchiostro separate ad alto rendimento consentono di stampare più pagine e offrono un costo copia paragonabile a quello delle stampanti laser. Ciò significa sostituzioni delle cartucce meno frequenti e stampe in ufficio più convenienti. Stampante Epson Stylus Office B1100. Accelera il tuo business. Grazie a tutti.